Vabbè Allora io metto dei diamanti raga Però non usateli va bene Che questi ci servono come il pane Li metto qua dentro Ok non raccoglio Ma possiamo usare i trucchi Diego ti ho detto adesso di non farlo Ti ucciderò immediatamente Li tengo io non ti preoccupare Va bene No dai Lasciamoli qua per un pochetto per favore Ma ritengo io non ti preoccupare Per piacere Per piacere Li metti qua non servono a niente adesso Diego per piacere Ma dov'è la miniera? La miniera ce ne sono varie Allora ti ci porti Dov'è la miniera? Oi ragazzi Io vi accortello la famiglia Un attimo Un attimo Stai a fa un cazzo Stiamo aspettando quest'altro bastardo infame Pezzo di merda Ma che cazzo me ne frega me Io tanto vado a minà Ma che a minà Poi ci si perde subito Si fa un casino Che cazzo dici? Dov'è la carne? Dov'è a Pontown Ma io non so questa persona Oh ragazzi dove trovo l'IP? Te l'ho passato ora in privato su Telegram Coglione del cazzo Ok grazie Dario Niente Ciao Mario Ciao Diego Ciao Mario Ciao Mattia Devi cagarti addosso E poi andare in altalena idiota Lo sai che Che m***o è questo dai Questo è vero eh Ma queste mucche poverette Ma è tutto sui Ma è la farm delle mucche va benissimo Si è capito Chi è che ha scavato qui sotto? Io No niente Diego Dai ti ammazzo Ma che cazzo vuoi? Ma va a far culo Levati 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 Vabboco 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 È un forte The performance Dai andiamo Dov'è sta grotta? Hai messo le rocce piuttosto del gioco Pocchio Dio Non si rompono Sì sì vieni Poli Dovresti trovare la base Oddio no mi è cascato l'acqua Mi sono scivolato Mi è cascato al secchio No Diego No Diego Dai tutto il campo Dai bimbi però così no eh Dai Ma l'unica cosa che l'hai ammazzato cinque minuti fa Ma dov'è Mario poi? Ma dove siete voi? C'è la base Alla vi do le coordinate con F3 39 71 11 Ecco uno lo vedo Mario Cina Ma che fu c'è? Con qualsiasi blocco entra dentro Mi devi dare un attimo figlio di puttana Ma che figlio di puttana dai Che la tua è scappata abbandonandoti Entra Guarda lo scalino che entrano i mostri Scusami Siete dall'altra parte del fiume? Ma non siamo nel signore dell'anelli Cosa vedono i tuoi occhi di elfo? Ti ho dato le coordinate Ma come si usano le coordinate? No ma stai mi dando l'uxacca Pija F3 seguile XYZ 47 Come hanno fatto entrare questi adesso? Ah mi sa che ho fatto un buco nel muro Dai Diego io non ce la faccio più No c'è uno scadino Diego stagli attento cazzo Ma che cazzo vuole questo? Ma chi è? Sono Mario Mario Sturgnolo Ciao Il cavaliere del lavoro Ciao Perché c'è sta skin di chiami Mario Cina? Dove sei Poli dai Ma l'ho messa io questa skin Mamma mia Mario Perché ho questa skin? Ma questa è veramente È preimpostata La potete cambiare Come si cambia? Sei di cattivo Ma a me sembra uguale Sto arrivando Sei molto attento Dai mi seguite se volete andare in grotta Sì Una medicina Nord su dove? Ragazzi era proprio scampata Sto per fare uno scudo Grazie Oh smetti parlare così No no perché poi vicini Cioè parliamo tutti di sopra Urliamo tutti e quindi Comidoso Andiamo dai ragazzi Ma non vivi nel merino Ti è arrivato un attimino solo Sto finendo di fare Ehi Bravo Non so grazie Breventi cinque mesi Ok ora ti arriva una spagata Andiamo No no scusami scusa Andiamo 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 dai Di qua Di qua c'è la porta Tiedetela sempre dietro di voi Sì Bello Berser che al secondo volume sono arrivati Nanni i diamanti li hai posati Vero che serve per i piccoli diamanti Mi raccomando Ok Quell'altro c'è un pezzo di ferro in mano Ma chi cazzo è? Nanni? Sì Andiamo dai ragazzi Oh Nanni dai muoviti Di qua Dove andremo Un secondo Vario Vario Nanni mi attacca eh Mi dai una picconata sul cervello Per farmi fare meglio Prendetemi un po' di carbone per farvi le torce Ragazzi un po' di legno per farvi le torce che vi serviranno nella groca Va bene papà Non ho un'ascia Però stanno venendo giù lo stesso i pezzi di legno Non è un problema Ma poi devi mettere una mappa Nanni Stai sempre ad attaccare gli altri Ha attaccato pure Dada adesso eh Che vuol dire? Ma non ho fatto nulla Sta facendo il legno Oddio è morto Mariocina Già? Chi è Mariocina? Poi ci viene scritto in basso a sinistra chi uccide chi Cioè sei veramente idiota Ah è morto da Dada No è il contrario Ma mi spiega c'è uno di vita Ma come il contrario? Sono stato ucciso da Dada Ma sei J1 di vita Sei una MEDA Ma è Tata che ha ammazzato Ma sei proprio un fascista Cioè mi dà proprio di essere morto Ma non è perché tipo Lazio Basta con questa storia Nessuno l'ha detto Diego Nessuno l'ha detto Ma come nessuno l'ha detto? Perché stanno nella Lazio È palese Ma non stai dicendo per conto tu Allora stai ammettendo di essere fascista Abascio No non so faccio È fascista cazzo Dove sta andando Giacomo 1996 adesso? Chi è Giacomo 1996 Chi è 96? 93 Io sono a disposizione Cosa dove andiamo? Nelle gatte? Sì Ma dove siete? Io veramente Ti giuro che non era niente Ora ti invito alla prossima punta per Poli Beatdown Mi devi dare il ferro Dammi il ferro Dammi il ferro È il ramen quello C'è il ferro È il ramen Come non ce l'avevo Dammi il ferro Ma l'hai recuperata la roba che Ah ce l'ho io Te l'ho usato scusa Oh come stai andando al rumeno? Non nessuno l'ha detto Eh no ma ha detto c'è il rame Ma che vuol dire Nessuno ha nominato i rumeni Il rame è minerale Ma io prendo le distanze Da questo coglione laziale Quindi fascista Eh sì Ti fa proprio il fascismo Ma è assurdo Miniera dove cazzo sta? È qua È qua Vieni È diottolano Ma ragazzi Volpescuci è laureato Non lo sai dove è Non lo so Ragazzi dov'è la miniera Che così andremo a distruggere Sono qua È tre ore che cerco di farvi Stare da solo Sei da solo Sono qui Madonna ragazzi Veramente Dov'è il club della Stella Maris qua? Eccovi qua Eccovi qua Mi seguite per piacere Con calma Chiedo che sappia Questa cosa è la Stella Maris Eh se google Hai quel google lì Cos'è perché tremo? Dada mi dai del ferro per favore Non ce l'ho il ferro Allora L'ha speso poli Non è vero Mario Ora si trova il ferro Si fa arma Si fa le fornace pitte Segui Vieni segui noi Dai Dove siete finiti? Così impari qua Ora ti ammazzo Brutto Ma che è sta grotta di merda? Ma è una merda Mi sono perso Grazie Dave per i 5 gita Io non No Ragazzi aspettatemi che devo recuperare l'altro imbecille Tucano di merda Dove cazzo è? Chi è il Tucano? È il loso grosso ragazzi È Mario di profilo Dov'è? È bello Forse ho capito di quale grotta Vabbè io ti abbandono No 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 Sto andando in miniera io eh Ma qui di qui schiava a caso? Io ragazzi Ma dove siete? Avete fatto Avete fatto tutta la scataglia Ragazzi Avete fatto tutta la scatagliocciola? Eh? No Buio sta scavando nel basso No 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 aspetta Ma dove siete allora? Oh non buo Non trovo i miei compagni di squadra Comunque io voglio fare il McDonald Cos'è il McDonald? Allora Voglio proprio costruirlo Ragazzi io vi devo capire dove siete Magari poi sta a fare un video Eh? Siamo esperti minatori Lo stiamo facendo qui? Esplorando perché dobbiamo procurarci Te soprattutto ferro E sai che c'era un ragione Dario Cioè? Regà Che subito Un buco Ho trovato un mineshaft Regà Ma cos'è un mineshaft? Eh è quello che dicevo prima Cos'è questo suono? Questo rumore? Ho sentito una canzone oscura Cioè? Ma che cazzo stai facendo te? Che stai a fa? Che è sta roba? Ma con chi stai parlando? Con Nani? Che fa? Ma che stai facendo? Ma sei pazzo? Sto aspettando Dario per diamanti Ragazzi non Nani non ha trovato diamanti Che cosa hai trovato Nani? Mi sembrano diamanti a me Mario dici di no Se a me sono diamanti Vabbè Io Che sono le edere L'ho provato a essere utile Se volete andare da Nani Non ho capito perché Nani mi stai trovando? No no Mi sembrano diamanti Mario non ci capisci un cazzo I Minecraft Non mi sembrano diamanti questi eh Cioè di controllo Perché magari non ho capito bene Non sono diamanti ragazzi Oddio E' che sono lapislazzi di Nani No non sono nemmeno Anzi secondo me No non sono lapislazzi Allora Nani resta di Dai Io ho bisogno di cibox Ma io come sono arrivato in questa zona Non capisco Ok Io cibo Oh Ha mai rotto il cazzo Oh Ehi a Nani Ultra Arcobaleno Arcobaleno Poi Tieni con me vai Non ho parole Ho perso i diamanti Ma vattene a fan Sono cagato addosso Vieni Oh madonna Vabbè è un tp C'è Sì ma Piccolo jumpscare Ok Comunque qua Una bistecca Mamma mia Amanti va bene Ma è un cazzo No ma è la stessa cosa Che questo esattamente Non la fai in realtà Ma io voglio Mie cazzo Di davanti E cerchiamo Cerca di scavo Ma che vuoi da me Ma voglio quelli Mario top Eccolo L'ho trovato Mannaggia a dio Ma l'ho finita a prendere Ma che si pui Poi Non c'ho il piccone di ferro Sì raga Ma fate cade Eh ho capito Lo sto cercando Semmero troppo No Stai cercando Lo cerco O te lo troppo Scava in basso Sto sotto di te Cosa stai facendo Cosa stai facendo Scatate in basso Lascia perdere Tu vai di là Ti faccio strada Anzi Ma perché Ma mi hai deciso Avete rotto il cazzo Avete rotto il cazzo Aiuto Amo di vita Da dove hanno Aiuto Oddio Oddio Ho trovato I cosi Come si chiamano I Wardin Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Vai via subito Vai via subito Oh merda Voglio vedere Guarda che te ne ho Però papona Oh merda Oh merda Ma ma è sicuro Cioè Dove siete Cos'è un Wardin Spiegatemi che io Anch'io ci sono Come Ok ok Poli Poli Ascoltami Non camminare Non camminare Su quei blocchi Non camminare Su quei blocchi Perché 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 se ti sente Spawna uno dei mostri I più sporti Della storia Dei videogames Vabbè Ma Mario Hai una bistecca No Non ci sono I sensori Io morirò Da un pipistrello No Diamanti Poli Ha bisogno Di cibo Non ha sponso Il sicuro Di zombie Da qualche Parco Dimmi Fermati Fermati Immobile Sono immobile Io ho bisogno Di cibo Diego Mi ringrazio In finito Davvero Grazie Mi bisogno Di cibo Grazie Diego Carbonella Carbonella Quale è il successo? Dove siete stati? Io Dono Poli Ho fatto un nuovo regolamento Con una nuova App di versione Oggi potete caprire Non mi sono mai parlato così Non mi fai Nerd Nerd Oggi potete Scoprire Quando sono bravo Con le animazioni Di Diacono 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 Che cos'è Stacore Diacono 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 Diacono